Carl! C'è un uomo morto nella nostra casa! Oh, mamma mia! Come ci è arrivato? Carl! Che cosa hai fatto? Io... io non ho fatto niente. Spiega che è successo, Carl! Non l'ho mai visto prima d'ora. Perché hai ucciso quest'uomo, Carl? Io non l'ho ucciso. Uccidere è la mia ultima cosa preferita da fare. Dimmi, Carl, esattamente che cosa facevi prima del mio ritorno? Ok, allora, ero di sopra. Ok! Ero nella mia stanza. Sì! Stavo leggendo. Continuo. Ah, quest'uomo è entrato. Ok! E sono andato da lui. Sì? E l'ho pugnalato 37 volte al petto. Carl! Questo uccide le persone! Oh, oh, wow! Io questo non lo sapevo. Come non lo sapevi? E cazzo, mi sono sbagliato. Sono un tontolone. Che cosa è successo alle sue mani? Cosa? Le mani! Perché mancano? Eh, le ho fritte e poi... poi mangiate. Carl! Allora, ero affamato e lo sai, quando... quando hai voglia di mani... Perché diamine l'hai fatto? Avevo voglia di mani! No! Carl! Il mio stomaco faceva quei lamenti. Carl! Solo le mani potevano saziare. Qual è il tuo problema, Carl? Beh, io... io uccido le persone e mangio le loro mani. Queste... queste sono due cose. Il mio stomaco faceva che non lo sapevano 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 sapevano